le città del futuro come saranno le città del futuro ma come saranno ebbene lo ha recentemente detto il presidente delle pcc il coreano lì le città del futuro saranno molto più affollate di adesso infatti i disastri naturali causati dai cambiamenti climatici provocheranno un forte flusso migratorio dalle campagne verso le città le quale pertanto ovviamente diventeranno più affollate si stima che intorno al 2050 il 70 per cento della popolazione mondiale sarà concentrata nelle grandi città insomma come capirete le città del futuro saranno molto più diverse da quelle che sono adesso aspettatevelo